Un progetto innovativo e sfidante, dove il frutto degli investimenti dipenderà da quanta neve il cielo deciderà di regalare. Ma la natura deve farci vivere, e questo pensiero prende forza e sostiene le idee di chi ha fatto della montagna una scelta di lavoro e di vita. E così la caparbietà e la lungimiranza di alcuni hanno saputo donare a tutta la valle quella ventata di tecnologia che serviva per la sua rinascita economica. Ancora oggi le nuove e le vecchie generazioni, innamorate del buon viso e delle sue magiche atmosfere, scivolano via su questi tendini. Ed il lieve fruscio dei lisci sulla neve fa rivivere emozioni e sensazioni, senza tempo netta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.